Qua c'era il parcheggio per disabili che hanno tolto per dare la concessione al bar di mettere i tavolini con le viole. Dopo che ci siamo lamentati del fatto che hanno tolto il parcheggio il comune ci aveva assicurato che spostavano il parcheggio dei disabili sempre qua in questa piazza ma in un altro posto. Come si vede il parcheggio dei disabili ancora deve nascere. Grazie. Grazie.